Al commencement day siamo con Andrea Mazzucchelli che è un laureato in LIUK in economia aziendale. Percorso più precisamente in direzione di impresa. Come è andata la tua esperienza universitaria? Benissimo, mi sono trovato molto bene qua, soprattutto per il fatto che i professori veramente ti tengono a cuore. Non è un rapporto impersonale, senti proprio la vicinanza, l'aiuto. Ecco, questo l'hai vissuto immagino in tutto il tuo percorso. Sì, sì, mi hanno aiutato a darmi più sicurezza e a raggiungere gli obiettivi che volevi raggiungere. Oggi tu mi dicevi che vorresti essere un imprenditore. Sì, 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 vorrei trasferirmi a Panama, penso di farlo a settembre. Ho il sopralluogo i primi 15 giorni di luglio. Come mai questa decisione? Perché vorrei sfruttare l'italianità nel mondo, vorrei far conoscere le nostre eccellenze, soprattutto all'estero, dove siamo sottovalutati pienamente. E mi dicevi che questo contatto è nato dallo stagio? Questo contatto è nato dallo stagio, che ho svolto a Firenze, per un'azienda fiorentina. E quindi andrei avanti a lavorare? Il contatto è stato l'internazionalizzazione dell'impresa e quindi le proprie volte abbiamo deciso che il caso aziendale riguardava un ablogistico a Panama per la gestione del centro sull'America. E quindi porterai un po' di Firenze a Panama? Sì, sì, sì. Benissimo. Inizialmente, poi vorrei allargare il portafoglio di prodotti. In bocca al lupo allora. Crepe, grazie. 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 Grazie.